Altre manovre, altre società, altri nomi. Da ieri sera il club di Viale del Fante è interamente di proprietà della Palermo Football Club S.p.A., una società nata e domiciliata in Italia. La Sport Capital Group nel frattempo ha provveduto ad un aumento di capitale, circa 17 milioni di euro, nella Sport Capital Group Investment. Il presidente Clive Richardson e l'amministratore delegato Emanuele Facile adesso hanno potere di firma. Tutto ciò è stato comunicato ieri pomeriggio sul sito ufficiale del club, sottolineando anche che è stata completata l'acquisizione della Mepal, che detiene il marchio del club e il progetto per la realizzazione del nuovo stadio. Ieri il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha scritto al sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando. Noi e la Lega, ha scritto Gravina, seguiamo con attenzione la situazione del Palermo anche in relazione agli diempimenti previsti dalle norme federali. Insomma, la situazione non è ancora chiara e la nuova proprietà nelle prossime settimane dovrà sottoporre agli organi di controllo i documenti dell'operazione, che resta di difficile comprensione per i tifosi, costretti a seguire una sequenza di movimenti obiettivamente poco chiara. Le prossime settimane però potrebbero finalmente portare luce su una situazione che resta coperta da alcune ombre. Gli inglesi comunque non stanno fermi, stanno lavorando. Grazie. Grazie.